Amici della FISO vi presentiamo il progetto Regioni Emiliano Corona anche quest'anno a capo del progetto Regioni alla 5 giorni d'Italia Sì, questa è la seconda possibilità che diamo ai ragazzi di partecipare al progetto Regioni come l'anno scorso al 5 giorni, anche quest'anno qui ad Auronzo quindi siamo molto felici perché stiamo facendo un'esperienza internazionale bellissima i ragazzi sono qui per fare un'esperienza internazionale provare le sensazioni, le emozioni che si vivono in un vero e proprio raduno della nazionale quindi con allenamenti, riunioni tecniche, momenti anche di incontro e di confronto personale e poi appunto gareggiare in un posto magnifico come sono qui le 3 Cimila Varedo Amici della FISO, questo era il progetto Regioni ci siamo divertiti molto in questa esperienza abbiamo fatto molti allenamenti, gare interessanti e auguro a tutti di fare un'esperienza del genere da Valentina Cazzaniga questo è tutto grazie a tutti grazie a tutti